La crisi Covid-19 ha ulteriormente messo in ginocchio il commercio, anzi lo ha completamente fermato, dicono gli imprenditori del settore. Il presidente di Confcommercio Campania, Giuseppe Gagliano, ha presentato ai sindaci della regione una richiesta per la sospensione delle imposte comunali quali Tari-Tarsu-Tosap fino al 31 maggio 2020, con recupero delle somme dovute a mezzo di una successiva dilazione errate. Anche l'amministrazione comunale di Corbara sta valutando la proposta. Mi auguro pure, e questo è quello che voglio dire, vorrei che pure voi organi di informazione faceste pressione perché, e spero che, penso che sia di queste ore, perché il governo capisca pure che in questo momento deve dare anche un po' di respiro alle famiglie e alle imprese, gli deve dare una moratoria nei pagamenti perché alla preoccupazione si aggiunge pure il fatto che queste persone potranno reggere per un po' di tempo, poi c'è il dubbio del domani su come fare. Io mi aspetto che anche questi interventi di respiro che si dà alle famiglie e alle imprese, perché è un momento eccezionale, avvenga, succeda, è un modo che aiuta le famiglie a sopportare meglio questa situazione, ma ripeto dobbiamo tutti dare un po' qualcosa in più. Grazie.